Salve a tutti signori ed eccoci qui alla review del Falcon Eyes F7 che è un faretto che ho utilizzato nell'ultimo mese anche nei miei video e vi posso assicurare che è una figata terribile quello che sta facendo in questo momento è far ruotare qualche colore RGB perché oltre ovviamente ad avere tutti i colori possibili, immaginabili ha anche la possibilità di essere regolato con delle tonalità di bianco che vanno dal molto freddo al molto caldo mi rendo conto non essere professionale quindi ecco la dimostrazione direttamente dallo schermino dietro, peraltro comodissimo come avete visto il range è da 2500 a 9000k quindi da molto caldo e molto freddo essenzialmente e ovviamente è possibile anche modificare la luminosità ad un livello veramente bassissimo fino a sostanzialmente accecarvi e questo vi dà la possibilità di essere veramente molto precisi sulla luce che volete andare a cercare soprattutto per quanto riguarda il bianco un esempio pratico può essere una situazione simile dove avete diciamo una fonte di luce primaria in questo caso la finestra e insomma volete compensarla come vedete non ci vuole un granché in questo caso è anche sbagliato come bianco perché non chiude bene però guardate anche se la muoviamo in avanti che illuminazione ben distribuita che viene fatta questo lo vedrete dopo con che accessorio ci sono riuscito potete creare anche degli effetti un po' strani per dire luce che viene da sotto roba tenebrosa essere estremamente loschi il passaggio alla modalità RGB si fa con un tocco così ed eccoci qui che abbiamo ben 360 colori rappresentati in alto a sinistra da un adesivo che possiamo andare a modificare in saturazione e in percentuale quindi abbiamo anche qui una gestione incredibile sul colore che stiamo cercando questo può essere utile per fare qualche effetto visivo come luce di appoggio anche perché illuminarsi di viola non so quanto possa essere furbo parlando di hardware invece guardatela è compattissima leggera vi sta in mano praticamente ecco questo qui è un G5 così per comparison ecco lo mettete qui e notate che è praticamente la stessa cosa cioè è grosso esattamente come un pessimo 5.5 pollice incredibile l'UGIS in fondo è ricaricabile via USB Type-C e non solo questo supporta anche la Quick Charge senza contare che dura un casino quindi io non so non ho più parole per un grande faretto una grande confezione quindi oltre alla borsetta per portarlo avete le istruzioni non preoccupatevi anche in inglese un esempio di tutte le modalità tipo ambulanza fulmini e roba così che può fare che io reputo abbastanza inutile abbiamo qui poi uno snodo che serve per inclinarla così non la mettete solo dritta e ovviamente la filettatura è standard per i treppiedi abbiamo il cavetto eh no invece abbiamo un attacco hot shoe quindi potete metterlo anche sopra la camera tipo flash assolutamente comodissimo e alla fine il cavetto che è abbastanza particolare nel senso come vedete dentro è viola il meglio assoluto comunque sono questi due diciamo indirizzatori di luce in gomma il quale questo qui tipo Onecomb dovrebbe puntare la luce da qualche parte mentre questo qui dovrebbe diffonderla da qualche parte passatemi per piacere questa scarallata a mano ma devo concludere su questo faretto che è veramente comodo da usare compatto con un range intelligibile di colori e di luce bianca e soprattutto ragazzi miei è assolutamente inevitabilmente fatto di LED LED